Il Presidente Acquarolli ha voluto assegnare un ruolo strategico alla proposta turistica delle Marche, una regione bellissima, meravigliosa, ma che ancora fa registrare, questo è il dato degli anni scorsi, una presenza turistica prevalentemente nazionale e domestica. Siamo a Dubai per questo, stiamo sviluppando un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione che ha prevalentemente questo scopo, quello di realizzare politiche integrate perché il turista del mondo possa incrociare il destino delle Marche. Da questo punto di vista molte sono le suggestioni su cui stiamo lavorando in tutte le latitudini del mondo, ma quello che è più importante è estrarre la massima percentuale di valore economico da questa campagna promozionale per le Marche. Questo vuol dire unire anche la bellezza con il prodotto, da questo punto di vista tipicità è per l'appunto una di quelle associazioni che ha lo scopo di interpretare e declinare proprio quella che è una proposta articolata che crea turismo e crea prodotto interno lordo. Noi come Med Group Holding siamo fieri di essere qui presenti a Dubai, ringraziamo la regione Marche e il sistema dell'università marchigiane per averci permesso di essere qui a presentare la nostra azienda, il nostro gruppo e le nostre soluzioni. In questo contesto abbiamo presentato un concetto a nostro avviso innovativo che è quello di FIGIVERSE che è un mix tra mondo fisico e mondo digitale, quindi non tanto metaverse come ricostruzione di mondi virtuali, ma visto che viviamo in un mondo bellissimo, la nostra Italia lo è ancora di più e visto che abbiamo molta storia, molta cultura e grandissimi atenei che ci possono permettere di creare contenuti molto innovativi e di grandissimo prestigio, noi parliamo di una realtà virtuale basata sulla realtà reale come ricostruzione della realtà reale nella quale andare ad aggiungere poi tutti i contenuti, tutti i servizi del mondo digitale.